Buon pomeriggio a tutti da Dottiforever Allora, stamattina il trapezieri mi ha chiesto 20 euro per sparare 4 graffette di merda su una sella di un booster Allora ci siamo organizzati, centro commerciale, spara graffette elettrica Un martello con manico pro grip nel caso sbagliassi a sparare Stanta a buona volontà Si mira Si spara Ed eccoci qua Sono più o meno alla fine della sella però Questo giusto per farvi capire quanto ci ladrono e quanto possiamo fare da soli Ciao